Ed eccoci qui amici di Saila TV Ben ritrovati con pomeriggio 216 Un'avventura questa la nostra Scoffiettante ma soprattutto emozionante L'arte in tutte le sue sfaccettature, l'arte in cucina, l'arte nella musica, l'arte nella danza Tanti ospiti che poi sono anche tanti amici perché coloro che sono passati e si sono susseguiti nel nostro salotto quest'anno Sono diventati davvero delle persone fondamentali non solo qui a Saila TV ma per noi stessi perché ognuno di loro ci ha regalato qualcosa Dalle martedì alle venerdì Dalle 17.30 alle 19 Noi ci saremo Voi non mancate A pomeriggio 216 A pomeriggio 216